Nuovi strumenti diagnostici, terapeutici e chirurgici sono pronti a rivoluzionare gli interventi sul tumore alla prostata. Non solo, un cambiamento radicale è previsto per l'ipertrofia del collo vescicale, una patologia che colpisce spesso una popolazione in età giovane fra i 20 e i 50 anni. Gli approcci terapeutici fin qui disponibili mettevano a rischio l'eacculazione del paziente con riflessi anche psicologici. Una nuova tecnica invece permetterà di conservare anche la capacità eaculatoria durante l'orgasmo. Sono i temi affrontati nel corso di un convegno che si è svolto alla clinica Villa Pia di Roma, la presenza di oncologi, urologi, chirurghi e medici di medicina generale. A presiederlo Alessandro Calarco, responsabile urologia della clinica. Il miglioramento diagnostico tramite per esempio l'utilizzo della risonanza magnetica multiparametrica e delle biopsie di fusione, anche dette fusion biopsies, ci porta a riconoscere e a valutare da parte dell'urologo specialista che si occupi di urologia oncologica quelli che sono i casi che necessitano di trattamento e di quale trattamento, perché non tutte le neoplasie prostatiche vanno trattate, dipende molto dall'età del paziente e dai fattori di rischio. Importanti novità le abbiamo avute anche per la cura dell'ostruzione urinaria, facendo particolarmente caso al risparmio dell'eiaculazione. Oggi la popolazione cambia, cambia la cultura, per cui anche gli effetti sulla qualità di vita rientrano in una sfera di importanza estremamente alta. Per questo motivo fare delle tecniche di disostruzione che risparmino anche l'eiaculazione ricopre un'importanza estremamente alta. Daniela Bottari, amministratore unico della clinica Villa Pia. Noi siamo molto lieti quindi di aver ripreso questa attività e questo contatto con tutti i medici di Roma e i grandi professori primari che conducono i reparti degli ospedali, delle università e quindi è un via, un inizio ad altri incontri sicuramente di formazione e di contatto tra Villa Pia e il territorio.